La crisi a sovrindebitamento, prima ancora è un concetto giuridico, è un tragico fenomeno sociale, a cui tosì con la pandemia, che colpisce distintamente consumatori e imprese commerciali non fallibili. Si considera che nel gennaio del 2020, dunque in fase pre-pandemica, sul mercato vi erano circa 320 miliardi a recuperare fra crediti in sofferenza e UTP. Ora più che mai dunque sorge la necessità di formare professionisti e le materie giurico-economiche in grado di affrontare i gravi problemi che sono posti sul tappeto alla pandemia. Il Master ha l'obiettivo di formare i professionisti nelle materie giurico-economiche che siano in grado di contemperare le esigenze di creditori e debitori, nonché di ristrutturare le posizioni debitori e di persone fisiche e imprese commerciali non fallibili.